Dopo la replica del Comune di Spoltore sul processo di fusione della nuova Pescara, oggi a passare al contrattacco sulla nota inviata da Marcello Antonelli nei giorni scorsi è il Presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano Ernesto De Vincentis. Il 4 agosto scorso si legge nella nota l'organo progetto di fusione si è riunito al Comune di Pescara per riprendere il discorso sospeso a causa dell'emergenza sanitaria e ha deciso di convocare una seduta dell'Assemblea costitutiva per il 7 settembre. Caro Presidente, esorta De Vincentis, perché non è espresso in quella serie delle verplessità rimarcate e diffuse soltanto ieri? Ci preme rimarcare che, nonostante la nostra totale contrarietà al processo di fusione, nessuno si è mai sottratto ai propri obblighi e, quando ha convocati, nessuno ha fatto mancare la propria presenza, nonché il proprio contributo. Stessa cosa, dicasi, della Commissione Statuto, che responsabilmente, presieduta dal dottore Enzo Fidanza, ha sempre lavorato fino a quando l'emergenza lo ha permesso. Pertanto, alla luce di questi elementi e dato il momento storico che stiamo attraversando, riteniamo il suo intervento pubblico intempestivo e inopportuno. Piuttosto che paventare l'avvio di un commissariamento, occupati come siamo a far ripartire le scuole e a non far chiudere le aziende, sarebbe stato più sensato richiedere coralmente un'immediata proroga al progetto di fusione. È vero che l'articolo 9 della legge regionale 26 del 2018 lo prevede, ma siamo certi che, dato l'attuale contesto, anche il Consiglio regionale ritiene quella del commissariamento una strada improponibile. Nessuno in questo momento sente il bisogno di accelerare un processo che per la sua complessità richiede tempi più lunghi e riflessioni più accurate. Caro Presidente, conclude Ernesto De Vincentis, se è vero che questo processo di fusione coinvolge alle parti tre comuni, bisogna procedere nel rispetto di tutti, territori e amministratori, senza fuga in avanti o strategie personalistiche.